Allora, riprendiamo il nostro discorso sui cammini minimi per avere un flash sul principio di funzionamento degli algoritmi e poi vedere direttamente l'applicazione degli stessi sul nostro esercizietto d'esempio della metropolitana. Ricordiamoci questa figura che riassume il punto d'arrivo. Codifichiamo all'interno di queste due tabelle che sono la tabella dei predecessori P, la tabella delle distanze che vi è chiamata delta o dei pesi, in queste due tabelle stiamo riassumendo tutti i cammini minimi partendo da un determinato vertice sorgente che in questo caso è S e me ne accorgo perché non ha nessun predecessore. Quindi questo codifica l'albero dei cammini minimi, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa, dove con cammino chiaramente entra una sequenza di archi consecutivi e la minimizzazione avviene sulla somma dei pesi degli archi incontrati. Ma qui sono cose che abbiamo già detto. Per capire come funzionano gli algoritmi si sfrutta questa proprietà, l'abbiamo già accenato la volta scorsa, del fatto che se io sono sopra al cammino minimo che collega una determinata sorgente a un determinato punto di destinazione, allora preso un qualunque nodo del cammino minimo, il nodo che lo precede non dipende dalla destinazione finale. Cioè il fatto che io per arrivare il modo più furbo per arrivare a X sia passare da U non dipende dal fatto che la mia destinazione finale sia Y, sia V o sia altra. Perché comunque il modo più furbo per arrivare a X è univoco. E quindi qualunque percorso che nel suo percorso ottimo contenga X, ovviamente per arrivare a X lo farà nel modo più furbo possibile. Poi possiamo chiederci se dobbiamo passare da X o no, se ci conviene passare da X o no per arrivare a Y o a V. È un'altra domanda. Ma se nel percorso minimo devo passare da X, il modo migliore di arrivarci è sempre lo stesso. È il percorso più breve per arrivare a X. Questa è la proprietà che ci permette di condensare l'unico albero a tutti i percorsi, di definire in modo univoco quindi il peso di ciascun vertice, cioè la distanza della sorgente, perché è il minimo assoluto e quel minimo li vale qualunque sia il percorso finale di cui questo vertice fa parte. E quindi di fatto ciò che interessa nel punto d'arrivo era quello che era chiamato il grafo dei cammini minimi o il grafo dei predecessori o l'albero dei cammini, che nel nostro esempio l'avevamo visto, aveva una forma particolarmente estremizzita, cioè questa. Ci eravamo poi fermati su problematiche legate agli archi negativi o ai cicli negativi, ma adesso riprendiamo invece il caso normale, quindi non archi negativi o altro, e cerchiamo di capire come possono funzionare gli algoritmi di calcolo dei cammini minimi. Allora, a noi potrebbe venire in mente, ah beh, devo una sorgente, ho una destinazione, metto in piedi un algoritmo ricorsivo che prova tutti i possibili cammini fino a quando non trova quello che arriva la destinazione e poi continuo a cercarne altri ogni volta calcolando, tipo, la somma dei pesi, eccetera, eccetera. E lo posso fare, però avrebbe una complessità decisamente elevata, no? Perché tutti i cammini possibili siamo di nuovo nell'ordine di una permutazione dei vertici, no? Quindi tendiamo a essere esponenziali o fattoriali nel numero di vertici. Per fortuna, per questo problema specifico, esistono delle soluzioni molto più semplici, no? Che sfruttano le proprietà matematiche, in qualche modo, del grafo, no? Ad esempio, qui siamo sempre collegati allo stesso principio di prima. Se io ho un cammino da V1 a VK, che è un cammino minimo dal vertice 1 al vertice K, quindi supponiamo già riconoscerlo, che qualcuno ci dica quello è un cammino minimo. Allora, presi comunque due punti intermedi, I e J, che siano completi tra 1 e K, quindi io prendo un cammino lungo, qualcuno mi dice questo è un cammino minimo. Ok, ne taglio un pezzettino intermedio, da V con I a V con J, di un certo numero di passaggi. ecco, questa conseguenza, questo teorimino, ci dice che quello che abbiamo trovato, c'è un segmento del cammino minimo tra 1 e K, è anche un cammino minimo tra I e J. Quindi, se io conosco un cammino minimo, ovunque lo tagli, se passa da quei due punti, il problema è solo quello, che deve passare dai punti che mi interessano, allora è anche un cammino minimo tra questi due. Quindi queste cose qua ci aiutano a costruire un metodo, diciamo così, che trovi la soluzione, un metodo costruttivo. Possiamo decomporre un cammino minimo in qualunque pezzo e ciascuna sua parte sarà a sua volta un cammino minimo. Bene, allora decomponiamolo raccomponiamolo in un modo particolare. Prendo un cammino, supponendo che sia sempre un cammino minimo, e lo spezzo nella parte iniziale e nell'ultimo arco. Cammino magari a 10 passi, 12 passi, io prendo i primi 11 e il dodicesimo, l'ultimo arco. Vale il teorema di prima, che dice qualunque frammento che tu prenda, continua ad essere un cammino minimo. Allora, se io calcolo il peso, per andare da S a V è uguale al peso per andare da S a U più il peso dell'ultimo arco, Uv. Supponendo che U sia il penultimo, no? Uv è l'ultimo arco, quindi V è la destinazione e U è il penultimo nodo. Ma, poiché vale il teorema di prima, il costo per andare da S a U è il costo minimo per andare da S a U. Cioè, il costo che nel percorso minimo è S a V. Delta, ricordiamoci che è il peso, la distanza minima, la soluzione già dei cammini minimi. Quindi, il peso del cammino minimo tra S a V, se ho trovato il cammino minimo, è il peso, la somma degli archi tra S a V più la somma dell'ultimo arco. Ma la somma degli archi tra S a V, visto che questo è uno spezzone di un cammino minimo più grande, è a sua volta un cammino minimo. Questo ci diceva il teorema un attimo fa. E quindi posso dire che la somma degli archi tra S e U, e il verso del precedente, è a sua volta delta, cioè il minimo possibile. Quindi questo ci dà, di fatto, una regola di articolazione che dice, ok, se io devo andare da S a V, mi concentro sull'ultimo arco e mi chiedo, per arrivare a V ho tanti archi entranti che arrivano a V, i vari U possibili, ciascuno avrà un suo peso W. Quale devo prendere? E devo prendere quello che rende vera questa uguaglianza, perché questa uguaglianza è quella che mi dà il costo minimo per il delta. È vero che è un'uguaglianza che non posso verificare subito perché i delta non li so, sono la mia incognita e la tabellina dei delta. Però in questo modo posso avere un meccanismo iterativo che mi permette di avvicinarmi sempre più alla soluzione. Per cui se questo U, qui siamo partiti dall'ipotesi, conosco il cammino minimo, quindi U fa parte del cammino minimo. Ma se io non sapessi qual è il cammino minimo e prendo un qualunque U' che sia un predecessore di V, allora vorrei dire che questa uguaglianza funziona come disuguaglianza. Cioè se U' può essere o per fortuna, ho scelto proprio quello che già c'è sul cammino minimo, allora questo vale con l'uguale di prima. Se invece ho scelto un U' cioè un predecessore di V, cioè il penultimo vertice del percorso, che non faccia parte del cammino minimo, e io non lo posso sapere, vuole dire che il suo cammino sarà più lungo. Vuole dire che il cammino che ho fatto andando da S a U' nel modo migliore possibile, più U' V, che era l'ultimo arco, sarà maggiore del meglio che avrei potuto fare per andare da S a V. Cioè sono andato da S a V passando dal vertice sbagliato in certo senso, da U' anziché da U. Ok? Quindi questo è uguale se sono sul cammino minimo e maggiore se non sono sul cammino minimo. E' ovvio che per poterlo dire però trovare l'U' che renda questo uguale dovrei conoscere il cammino minimo fino a un grado prima. Cioè questa mi dà, questa equazione mi dice, guarda che se tu conoscessi tutti i cammini minimi da S ai predecessori di V, allora ti basta provare tutti i U' a tutti i predecessori di V, calcolare questa formula, cammino minimo fino a U' più l'ultimo arco e il valore minimo che trovi è garantito che sia il cammino minimo tra S e V. Se so trovare il cammino minimo fino a un predecessore, so anche trovare il cammino minimo totale. Quindi mi sono già tolto l'ultimo pezzo e così via a questo punto potrei iterare, no? Quindi ho un'iterazione che cerca, parte diciamo così, se io scelgo a caso un U' l'equazione mi verrà col maggiore. Se ne provo altri, man mano che ne provo altri, questa equazione magari migliora, cioè diventa sempre più piccola, sempre più vicina all'uguaglianza e se itero a sufficienza e in modo sistematico questi tentativi, riuscirò a mettere a posto tutti i possibili predecessori. E la cosa carina è che quando metto a posto un predecessore vale per lui e vale anche per tutti i percorsi che da lì passano e vanno verso destinazioni finali diverse. Quindi questo si basa, quindi ragionare su questa formula è la base essenzialmente su cui si costruiscono tutti gli algoritmi basati sulla relaxation, rilassamento di un arco. L'idea qual è? Che ogni volta, qui è semplicemente una cosa di terminologia, visto che scrivevano l'obserdo codice, usiamo D anziché delta per rappresentare le distanze e i predecessori, quindi quello che facevamo prima. L'idea del rilassamento è, gli algoritmi basati sul rilassamento fanno questo lavoro, aggiorno il predecessore, ipotizzo dei predecessori, non so quale sia, e poi via via faccio tentativi di aggiorno se scopro un predecessore migliore dal punto di vista della formula precedente. Precessore sarà migliore o peggiore a seconda del peso che ci metto ad arrivare fino a lui. Il peso ovviamente anche esso non sarà noto all'inizio e verrà migliorato iterativamente. Quindi io parto in un certo senso con una serie di ipotesi, dicendo boh, questi sono dei percorsi. Ogni volta che osservo un ramo di quello percorso mi chiedo, questo lui, tu sei il migliore che potresti essere? Date l'informazione che ho? Se sì, non ti tocco, se no ti sostituisco. E questo però lo ripeto più volte, perché l'informazione sul fatto che lui sia migliore si basa sul fatto che io ipotizzo che il percorso fino al grado precedente fosse ipoteticamente quello migliore. Se poi scopro che non è quello migliore, allora devo rivalutare anche quello che sta a valle. Adesso a parole è più complicato da dire che non ha codice. Quindi noi partiamo con un grafo e diciamo io all'inizio non so niente, che per ogni vertice il predecessore non c'è, non è noto e la distanza ipoteticamente inizialmente è infinita, cioè ogni vertice non so neppure se sia raggiungibile. Tranne uno che è il nodo sorgente. Allora il nodo sorgente non ha predecessore ma la distanza per raggiungerlo ovviamente è zero, perché sono già lì. Ok, da questo momento in avanti condenso il ragionamento che abbiamo fatto finora in questa funzioncina che dice guarda considera tre vertici, qualsiasi. Noi ragioniamo col fatto che U, V e W siano uno il vertice di partenza, il vertice di arrivo, il vertice intermedio. Però la regola vale sempre. E dice vai a vedere il peso noto finora di V. E confrontano col peso noto finora di U più l'arco, il peso dell'arco che collega U a V. Ovviamente questo ha senso se U e V sono collegati da un arco. Quindi prendo un arco a qualunque, U e V. E mi chiedo ma guarda che il peso che io conosco, la distanza minima ipotetica, nota finora per arrivare a V, è maggiore della distanza nota finora per arrivare a U più il peso dell'arco? Se sì, cosa vuol dire? Vuol dire che io conoscevo una strada per arrivare a V, ma ne ho trovata una migliore. Perché questa equazione mi dice che posso passare da U, poi attraversare quest'arco e complessivamente un peso minore del peso che avevo prima, che avevo scoperto già prima per arrivare a V. Allora mi dico, bene, allora mi ricordo che per arrivare a V c'è questo modo più furbo e il modo più furbo è passare da U. Cioè il predecessore di V sarà U a questo punto. All'inizio, sul grafo iniziale, tutte queste distanze sono tutte infinite, però la prima volta l'unica distanza che è nota è quella della sorgente e quindi lui comincia a ipotizzare delle distanze dalla radice, dalla sorgente ai suoi adiacenti, perché sono gli unici per i quali zero più il peso dell'arco è minore di infinito. Allora comincia a dire, guarda, tutti i suoi adiacenti ci arrivo dalla sorgente, che poi non è detto che sia la soluzione definitiva, è la soluzione migliore finora. Perché io potrei avere la sorgente, due adiacenti e non convenga, e possa convenire per arrivare alla decente di sotto, passare dall'altro. Qui non ci interessa il numero di archi, ci interessa la somma dei pesi, no? Ma questo lo scoprirò dopo, cercando di rilassare se esiste quell'arco intermedio. Quindi graficamente stiamo facendo una cosa di questo genere. direttamente, io sapevo in qualche modo da U a V conoscevo un percorso con peso 9, c'è scritto qua, V a peso 9. Vorrà dire che conosco anche che U ha peso 5, quindi vorrà dire che esiste un percorso che collega U a V, che non so dove passi, che ha peso 4. Io in realtà questo 4 qua non lo conosco, no? Non lo sto considerando in questo momento. Io so solo che per arrivare a V sapevo che ci voleva 9, un costo pari a 9. Qualcuno mi ha detto, guarda un po' quest'arco U a V che ha peso 2. Questo parte da U e U in qualche modo conosci già un modo per raggiungerlo con costo 5. Quindi 5 più 2 fa 7 e quindi non so prima come facessi a raggiungere V con 9. Ma adesso so che ho trovato un modo migliore. Raggiungo U con 5 e poi come far raggiungerlo lo chiederò U e poi sommo 2 per arrivare a V con un costo 7. Quindi la soluzione migliore a questo punto è questa. Quindi il peso di V diminuisce. Qui ogni volta che faccio un rilassamento di un arco o qualche peso che diminuisce, qualche costo che diminuisce. Se i pesi sono positivi e partono da più infinite e ogni volta non possono far che diminuire, il problema via via si avvicinerà alla soluzione. La soluzione la troverò quando nessun arco sarà più in grado di migliorare nulla. Ad esempio mi troverò a condizioni di questo genere in cui io conoscevo un percorso di peso 6 che arrivasse a V e quindi questo 5 più 2 non ne faccio nulla. E quindi non cambio niente. E quindi quest'arco qua non farà parte del cammino minimo. Quindi arriva ad un certo punto in cui questo 6 rimane 6. Però se ci pensiamo quando sono passato da 9 a 7 ho risolto, ho migliorato la posizione di V e poi che però sappiamo qui dalla slide dopo che ci sarà ancora un altro percorso che costa meno. Questo qui. Avendo cambiato V in realtà dovrei rivalutare tutte le scelte che ho fatto prima sui successori di B. Perché sui successori di B qua avevo fatto, dopo qua sotto, avevo fatto dei ragionamenti che tenemano conto di questo 9. Ho valutato le esuguaglianze che tenemano conto del 9. Adesso questo 9, e quindi queste esuguaglianze potrebbero essere vere o false, adesso questo 9 è diventato 7 quindi devo andare a rivedere se riesco a migliorare ancora di più. Perché magari prima avevo considerato che l'arco da V a X non mi serviva perché 9 più era troppo grande. Ma lo stesso arco con 7 più magari diventa competitivo rispetto a un percorso che già conoscevo. Quindi non mi basta considerarli una volta gli archi. Devo considerarli e riconsiderarli più volte fino a quando tutto si stabilizza. Vabbè, questa è la stessa equazione che dice che dopo l'operazione di rilassamento, il rilassamento può cambiare o non cambiare il grafo a seconda che abbiamo trovato la condizione più conveniente, ovviamente il peso di univertice sarà minore uguale, vale questa stessa equazione, col minore pro con l'uguale. Quando vale con l'uguale ho finito, ho trovato, quando è che vale con l'uguale? Quando non c'è più nessun tentativo di miglioramento che abbia successo. Allora se nessun, visto che il grafo è finito, se nessun tentativo, quindi nessun arco può essere rilassato, allora i valori che ho trovato sono il minimo. E va bene. Adesso qui va avanti per passettini, ma... Questa è l'operazione di base. Ciò che non abbiamo ancora detto è, ok, va bene, mi hai forse convinto che tu parti da un grafo, trovi un arco e riesci a rilassare quell'arco, ti sei avvicinato un pochino alla soluzione dei cammini minimi. Però dobbiamo avere una strategia per rilassare questi archi. Cosa faccio? Lì passo tutti dal primo all'ultimo e poi una strategia molto banale potrebbe essere questa. Io prendo tutti gli archi del grafo e provo a chiamare questa funzione di rilassamento. Poi rifaccio il secondo giro, una seconda iterazione di nuovo da capo. Poi una terza iterazione di nuovo da capo. O ogni giro farò qualcosa. Un arco qua, un arco là, lo sistemo e a un certo punto ci sarà un'iterazione completa in cui non troverò più nulla da fare. Allora a quel punto mi fermo. Questo non è il modo più efficiente perché rischia di considerare lo stessi archi non più rilassabili più volte. Quindi ci sono vari algoritmi che si basano sempre su questo concetto di base, di rilassamento, ma cercano di essere un pochino più furbi nello scegli, nel visitare gli archi e provare queste operazioni di rilassamento. Quindi variano soprattutto sulla base dell'ordine delle operazioni che compiono. Vi faccio solo un flash di... Ad esempio, non entro nel dettaglio di questo, non entro nel dettaglio di quello di Dijkstra dopo. Questo è un algoritmo molto stupido che fa essenzialmente quello che dicevamo. Un triplo loop, cioè il rilassamento che prendeva tre vertici e provava a vedere se si potevano rilassare. Eh, questo fa esattamente la stessa cosa. Prendo tutte le possibili tripletti di vertici, partenza arrivo e predecessore e provo a vedere se vale questa relazione. Se sì, sostituisco il predecessore, sostituisco la distanza. Qui c'è un doppio indice UV, anziché un indice solo, perché questo sta cercando di considerare contemporaneamente tutte le possibili sorgenti. È un pochino più complesso che ci dà tutti i percorsi minimi da parte di tutte le sorgenti, quindi di fatto ha tante volte questo vettore replicato per ogni sorgente. Quindi ci sono algoritmi di questo genere a cui la complessità è chiaramente via il cubo, che va avanti fino alla fine, fino a quando non esaurisce tutte le possibili prove. Quando ha finito tutte le possibili prove ha trovato i cammini minimi. Via il cubo può sembrare tanto, ma è sempre meglio che farci l'algoritmo ricorsivo che avrebbe una complessità esponenziale. Non entro in dettagli di come funziona questo algoritmo. Mentre invece, magari spegniamo qualche parola in più rispetto all'algoritmo di Dijkstra, che è quello un pochino più gettonato, un pochino più famoso, è un algoritmo fatto da questo signore, quando era un pochino più giovane, che è uno dei fondatori di molti degli algoritmi di base che usiamo ancora oggi, risolve il problema single source, quindi più facile da capire, più vicino ai ragionamenti che abbiamo fatto finora, o una sorgente unica, o un punto di partenza unico, e voglio trovare tutti i cammini minimi. Allora, il passo chiave è questo. Adesso questo è l'algoritmo scritto in pseudo codice, con una simbologia ovviamente diversa, ma alla fine sono sempre le stesse cose. Il vettore delle distanze, e di ogni vertice ovviamente devo conoscere qual è la distanza con cui lo raggiungo. La chiave è qua. A ogni interazione, lui si chiede questo ciclo du, o una coda, che contiene tutti i vertici possibili di destinazione. L'algoritmo di Dijkstra pensa, io cerco di non considerare un certo vertice più di una volta, e quindi cerco di considerarlo solo quando sono sicuro che ciò che farò sarà definitivo. Quindi non li visita in ordine, alfabetico, in ordine di inserimento, ma dice tu vertice, aspetta un attimo, ti guarderò dopo, perché prima ne ho degli altri più certi più certi, più sicuri, in certo senso. E quindi lui ordina i vertici in una coda, che tiene conto delle distanze note dalla sorgente, e ogni volta estrae da questa coda il vertice più vicino nella sorgente. Lo considera visitato, questo essere insieme di visitati, e considera tutti gli archi uscenti da questo. Quindi il primo passo è facile. L'unico nodo che ha la distanza minima della sorgente è la sorgente stessa. Quindi prendo la sorgente, prendo tutti i suoi vicini. Considero tutti i suoi vicini e applico il rilassamento ai vicini. Ovviamente i vicini avranno una distanza che finora è infinita, e quindi li ridefinisco tutti, dicendo che ogni nodo vicino alla sorgente, ogni adiacente alla sorgente, è raggiungibile dalla sorgente stessa. Il primo passo. Al secondo passo, torno su e mi chiedo qual è tra i nodi adiacenti alla sorgente, cioè quelli che mi sono rimasti e di cui ho già una distanza che non sia infinita, quello più vicino. Cioè se io ho due adiacenti che hanno peso 2 e peso 5, lui può tentare di passare dal 2 per arrivare al 5, ma non è furbo tentare di passare dal 5 per arrivare al 2. Quindi lui cerca di migliorare dicendo il 2, tra quelli che conosco è il peso minimo. Non ci sarà nulla di meglio. Allora, se c'è qualcosa da migliorare, passa da qua. Magari non c'è nulla da migliorare che passa da qua, ma se c'è, partiamo da qui. Quello che dicevamo prima, il vertice è passato da 9 a 7, quindi devo rivalutare tutte le scelte che ho fatto sulla base del valore vecchio. E l'Aistra cerca di non fare questo ragionamento e cerca di dire io ti considero vertice, considero i tuoi adiacenti, i tuoi successori, solamente quando tu hai già raggiunto il minimo che potresti raggiungere. Questo funziona ovviamente se non abbiamo pesi negativi. Se mi mettete un peso negativo dentro d'Aistra, succede il macello, tira fuori le schifezze. Perché lui dice l'adiacente migliore è quello, peso 2, ok. Allora andiamo a vedere gli adiacenti di questo 2. Tanti non sono ancora raggiungibili, peso infinito e quindi ipotizzo che questo sia il passaggio migliore. E poi magari alcuni sono già noti, tipo il 5 di prima, allora devo andare a vedere se 2 più il peso dell'arco è maggiore o minore di 5. Se fosse minore di 5, allora quel nodo di 5 dirò non è più collegato alla radice, ma è collegato al 2. E così via. Quando ho fatto questa operazione, il nodo che aveva peso 2 lo tolgo, non mi serve più, perché tanto i suoi successori li ho già considerati tutti, e mi chiedo, tra tutti i nodi che io già conosco, che a questo punto sono gli adiacenti alla radice più gli adiacenti al 2, qual è quello che ha peso minore, distanza minore dall'altra gente? Quello lì sono sicuro che non cambierà più. E vado avanti in questo modo. Quindi lui spende, D'Aistra, un pochino di tempo in più, perché calcolare il minimo non è una cosa che ti viene gratis, ha un costo che può essere o di n se scandisco la lista o o di log n se uso una cosa prioritaria con degli alberi all'interno, un pochino più efficiente come sicuro dati, un i per esempio, ma non ci interessano i dettagli, però può avere un costo o di log n. Qui a differenza dell'agonia di prima che faceva di lupare i dati e non spendeva nulla per ragionare, dicevo faccio tante prove e prima o poi il risultato arriva, lui si ferma un attimo, ragiona, ma scelgo questo. Quindi spende un po' di tempo, ma complessivamente ogni nodo verrà pescato una volta sola. Quindi qualunque operazione io faccia dopo, so che la farò una volta sola per nodo. Quindi la complessità a occhio mi viene da dire, l'operazione più costosa qua è il calcolo del minimo, perché tutte le altre sono operazioni con costo unitario, quindi questo ciclo, questo do, a costo log di n viene eseguito n volte, perché faccio proprio attenzione a non eseguirlo più di una volta per ogni vertice, quindi il numero massimo di iterazione che farò sarà esattamente il numero di vertici. Quindi arriva un o di n log n, cioè v log v, dove è il numero di vertici. Vediamola all'opera. Partiamo da questo grafo. Sorgente a, voglio calcolare i cammini minimi. Inizialmente tutte le destinazioni hanno peso infinito. Considero i vicini, allora, qual è il vertice con peso minimo? A è l'unico che ha zero. Considero gli adecenti ad A, quali sono? B e C. Zero più 10 è minore di infinito? Sì, allora rilasso a B. Zero più 3 è minore di infinito? Sì, allora rilasso a C. E quindi a B e C avrò peso rispettivamente 10 e 3. Ho finito A, non mi servirà mai più. A questo punto, tra questi vertici, 10 e 3 è infinito infinito, da quale parto? Parto da C. I suoi adecenti quali saranno? Saranno B, D, E. Allora, B, D, E. B ha peso 10. 3 più 4 fa 7. E quindi B si può cambiare. Anzi, deve cambiare, perché ho trovato il modo di rilassare questo peso. Da 10 diventerà 7. E a questo punto dico, meno male che non sono partito da B. Perché avrei fatto dei ragionamenti partendo da 10 che hanno da buttare via. Poi, questi due sono più facili perché ovviamente hanno infinito, quindi sicuramente da guadagnare. Quindi il grafo si trasforma così. Ho rilassato B e ho scoperto che D ed E hanno peso 11,5. Adesso, da dove parto? Parto da E. Anche se B è più vicino alla radice, ha ancora un peso troppo alto e invece casualmente E ha un peso più basso, quindi conviene ragionare sugli adecenti di E. Gli adecenti di E quali sono? Beh, in questo caso c'è solo D. Perché è un grafo orientato da E a D. Allora, io conosco 5 più 9 fa 14, D vale già 11, quindi non faccio nulla. Considerando E non modifico il grafo. Non modifico i pesi. A questo punto, chi pesa meno è finalmente D, sull'arte B, come Bologna, che ha peso 7, considero i suoi adecenti. Allora, questo arco qua, 7 più 1, non lo devo considerare. Vabbè, se vogliamo lo guardo, ma mi accorgo che 7 più 1 è maggiore di 3. Tanto C è un vertice che ho già preso. L'ho già estratto, l'ho già considerato, non lo tocco più. Non capiterà mai che ho bisogno di toccarlo. Devo solamente più considerare gli archi che vanno verso vertici gialli, non ancora presi. Quindi 7 più 2 fa 9, è migliore di 11. Sì. 7 più 1 fa 8, ma lo sapevamo già. Rimane solamente D, che non essendoci più archi, più vertici gialli, di sicuro tutti i suoi archi uscenti non porteranno a nulla di nuovo. E quindi i pesi minimi sono, le distanze minime sono 7 per B, 3 per C, 9 per D e 5 per E. Tra l'altro dal punto di vista algoritmico è molto comodo il fatto che io calcoli le distanze minime e non debba tenere conto dei predecessori. Per chi deve implementare questo algoritmo è più semplice. Poi in realtà, dal punto di vista pratico, i predecessori me li salvo lo stesso. Perché non serve a niente che io mi dica, guarda, il cammino minimo è lungo 260 km. Ok, da dove passo? Non lo so, no? So solo quanto è a lungo. L'algoritmo calcola solo quanto è lungo. Ovviamente, dentro l'elaborazione, non mi costa niente tenere tracce degli archi che ho usato, no? Però la conoscenza degli archi che ho usato non serve all'algoritmo. L'algoritmo di Astra, in questo caso. Quindi lo rende ancora più snello. Semplicemente un'informazione che servirà poi a posteriori. E quindi, la complessità di questo signore, come dicevamo prima, come abbiamo già osservato prima, è dell'ordine di V log V, a meno che, chiaramente, il numero di archi, il grafo sia così denso, che il numero di archi diventa dominante, quindi diventa dell'ordine di V quadro. Chiaramente dovrei scandire tutti gli archi, però questo fattore diventa dominante solo su grafi estremamente densi. Ok? Quindi questi sono, se vogliamo, qualche ragionamento per capire come funzionano questi algoritmi. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un problema con le cammini minimi, che a prima vista, con un metodo brutale, forza brutta, ricorsivo, ci hanno dato una complessità molto alta, ma c'è qualcuno che l'ha studiato e ha trovato una soluzione polinomiale, anche polinomiale bassa, V log V per ogni vertice. Allora, se noi volessimo estendere l'esercizio della volta scorsa, no? Su cui avevamo calcolato, semplicemente una visita del grafo, avevamo calcolato dei percorsi che avessero il numero minimo di archi, però, ma non il tempo minimo di percorrenza. proviamo a estenderlo pensando di calcolare nella nostra rete metropolitana dei cammini effettivamente minimi e per far questo dobbiamo passare a un grafo pesato. Tutto questo ragionamento sui cammini minimi ha senso solamente se gli archi hanno peso diverso, perché se no una bella visita in ampiezza ci risolve il problema. Grafo pesato, e come lo definisco il peso? Visto che è una rete dei trasporti, in questo caso il peso sarà il tempo di percorrenza. Io ce l'ho il tempo di percorrenza nel mio grafo? No, però ho, dove era il database, qua sopra, la connessione tra due fermate non mi dice quanto tempo impiega, però mi dice qual è la linea che passa di lì e per ogni linea ho una velocità. Quindi a che velocità viaggiano le carrozze di quella linea media? In il database vedete che le varie linee hanno velocità diverse. La velocità è la distanza. Le io le fermate so dove sono perché ne ho le coordinate, quindi mi posso calcolare, stimare ovviamente, il tempo di percorrenza tra due fermate. Conoscendo la linea che le collega, la velocità di quella linea e le coordinate geografiche di queste due fermate, ipotizzando che la metropolitana sottoterra vada in linea retta o quasi. È chiaramente un'approssimazione. E quindi farò in modo che questo mio grafo delle stazioni non abbia gli archi tutti indistinti, ma siano archi pesati con la stima del tempo di percorrenza. Allora a questo punto potrò proporre dei percorsi che siano migliori, non basano più sul numero minimo di stazioni, ma sul tempo stimato minimo. Ok? Allora io questo lo sto, adesso sto lavorando in un branch che si chiama soluzione cammini minimi, così per tenerlo separato dal branch che si chiamava, se non sbaglio, soluzione in aula, con cui avevo nato la settimana scorsa sui percorsi. Perché qua ovviamente dobbiamo, ho fatto un branch separato perché dobbiamo cancellare roba, non è più modificare, il grafo è diverso. Quindi non stiamo solamente aggiungendo funzionalità, ma lo stiamo un pochino rimaneggiando. Allora ho preferito tenerlo separato. Allora, il punto di partenza è creiamo il grafo. Creiamo un grafo che a questo punto non sarà più un grafo semplice orientato, ma sarà un semplice orientato e pesato. Penso che si chiami simple directed weighted edge. Weighted graph esiste. Simple directed weighted graph. Questo qua. Quindi la classe è molto simile a quella precedente, è un grafo semplice orientato, ma in questo caso pesato. E devo ricordarmi anche che a questo punto gli archi di questo grafo non saranno default edge, ma saranno default weighted edge. In modo da poter associare un peso. Ok. Ok. sto sbagliando qualcosa graffo come l'ho definito scusate tifold eccolo qua weighted e ci dobbiamo anche modificare il grafo ok ok allora ho modificato un po' la definizione del grafo in modo da crearlo pesato e ovviamente con gli archi pesati io non toccherei la creazione del grafo precedente ce l'abbiamo già dobbiamo però aggiungere non solamente gli archi ma il peso agli archi allora potrei andare a modificare la query qua sopra per farmi ritornare non solamente l'elenco delle fermate di destinazione ma anche i pesi corrispondenti oppure dico vabbè qui aggiungo gli archi e dopo aggiungo il peso agli archi in prima istanza in prima battuta è chiaro che se è più efficiente se faccio tutto in un colpo solo però visto che ho già il codice che funziona in prima battuta non lo tocco ma che implemento a parte il calcolo dei pesi e poi se vedo che ci sono i problemi di efficienza cerco di integrarli eventualmente non ottimizziamo mai troppo presto quindi aggiungi i pesi agli archi perché non lo voglio fare? ma perché in realtà non è così banale trovare la velocità dati i due vertici perché immaginate di avere due fermate tra queste due fermate ci sono molte connessioni e queste connessioni possono essere di linee diverse queste linee diverse possono avere velocità diverse e quindi per calcolare il tempo di connessione dovrei trovare qual è la linea più veloce se sto cercando di minimizzare il tempo quindi dovrei fare una query che è effettivamente un pochino più complessa perché non basta solamente chiedermi sono connesse sì o no ma qual è la linea più veloce che le collega quindi facciamo un passo alla volta allora se io voglio solo sapere a questo punto scusatemi i pesi degli archi perché gli archi già li ho calcolati come posso fare a livello del database? allora riprendiamoci il nostro il nostro caro database dove avevamo connessione fermata e linea quindi la nostra informazione principale è sulle connessioni che mi dice guarda io collego la 351 con la 244 e ti so anche dire con quale linea quindi io prendo connessioni posso fare un join con linea e da linea vado a pescare da linea vado a pescare la velocità quindi mi faccio una tabellina che abbia stazione di partenza, stazione di arrivo, velocità a fianco poi quale sia il numero della linea non mi interessa mi interessa solamente la sua velocità quindi farei semplicemente un select from connessione virgola linea condizione di join sia che ovviamente connessione punto id linea sia uguale a linea uguale a linea punto id linea e che campi mi interessano? mi interessano dalla connessione il punto di partenza la stazione di partenza la stazione di arrivo e dalla linea la velocità e se faccio questa cosa lui mi dice ok tra questa stazione e questa altra stazione può arrivare con questa velocità tra questa e questa può arrivare con questa velocità eccetera eccetera però può capitare adesso qui non le ho in ordine ma può capitare che la stessa coppia di stazioni compaia più volte proprio perché ci sono coppie di stazioni che sono adesso qui a occhio non le vedo che sono collegate da più linee tra di loro allora in questo caso se una determinata coppia di stazioni compare più volte io dovrò calcolare il minimo tra le velocità corrispondenti giusto? quindi raggruppo per stazioni partenza arrivo e della velocità calcolo il minimo quindi nel caso in cui una determinata coppia partenza arrivo compaia più di una volta io non le voglio ripetute due volte ma voglio semplicemente che il gruppo di righe che corrispondono a quella coppia di stazione venga riportato una volta sola e al posto del valore di velocità venga calcolato il minimo è questo se vogliamo giusto per avere un'idea nella maggior parte delle coppie c'è effettivamente solo una linea che le collega però se io ordino questa cosa qua in modo decrescente c'è comunque un certo numero di tratte quindi di coppie di stazioni che sono servite da due linee diverse non vedo nessun 3 vabbè questa mappa è fatta così quindi in questo caso ad esempio 53, 204 ops non minimo massima velocità minimo tempo massima velocità rifaccio e quindi ho delle tratte in cui passavano due linee diverse ad esempio 88, 163 e 55 è la velocità della linea massima che passa tra le due ok ma questo count ci serviva solo adesso per capire questo qua le diamo un un nome così ecco questa qua potrebbe essere la tabellina che ci serve che ci dà già l'elenco dei pesi dei grafi degli archi allora possiamo creare un metodo del DAO che ci restituisca esattamente questa lista e poi nel modello usiamo i valori di questa lista per andare ad inserire i pesi negli archi che già ci sono oppure direttamente questi sono già tutti gli archi sotto il grafo e quindi la parte di codice che inserisce gli archi la posso buttare via e la posso direttamente prendere da qua nel ragionare sui nel fare una query la mia attenzione il mio focus adesso era trovare il peso però nel fare la query per trovare il peso mi sono accorto che ho anche tutti gli archi gratis allora posso buttare via anche il pezzo attuale di codice che crea gli archi sperando che siano gli stessi e e usare direttamente questa tabella allora per farlo partiamo dal DAO quindi creiamo un metodo lo aggiungiamo che restituisce che cosa? una lista di oggetti che hanno stazione partenza stazione arrivo e velocità quindi mi devo fare un oggettino stupido che contenga questi tracampi vabbè allora devo fare un oggetto qua lo faccio dentro il modello chiamiamolo connessione velocità così mi ricordo che cosa ha cosa contiene perché dietro contiene le informazioni sulla connessione linea di partenza scusate fermata di partenza come si chiamava la stazione di partenza poi stazione di arrivo e poi la velocità dopo di che ci metto i suoi cari metodi costruttore get resetter get resetter di tutti e hashcode e equals che vanno sulla connessione stazione di arrivo e stazione di partenza che sono i due campi chiave della tabella connessione ok questo è semplicemente un oggettino che mi serve per memorizzare questi tre valori e quindi nel mio DAO posso restituire una lista di questi connessione velocità nome un po' stupido per un oggetto ma get connessioni e velocità dove eseguirò questa interrogazione che abbiamo appena visto così e qui non c'è nulla da fare che semplicemente apprendere il risultato di questa query e metterla in una lista cosa che abbiamo già fatto un milione di volte connection con uguale db connect punto get connection poi devo dichiarare un prepare statement di questo sql qui ci vuole il 3 catch intorno ci metto dentro anche la connessione mi ricordo di chiudere la connessione ormai andiamo in automatico su queste cose result set è l'execute di questa query il risultato che restituisco è una lista di connessione velocità result uguale new array list di quegli oggetti while result set punto next crea l'oggetto velocità il singolo item non sarà altro che un nuovo oggetto a cui gli devo passare la stazione di partenza quindi result set punto get int della colonna che si chiama id statsp lo sto guardando sopra qui poi andiamo a capo se non si legge più nulla poi la stessa coda per la stazione di arrivo quindi il secondo campo la stazione di arrivo result set punto get int id underscore stats a e il terzo campo sarà velocità result set punto get double forse era un intero ma tanto nel grafo i pesi sono sempre double quindi tanto vado a lavorare con i double velocità e questo item che ho appena creato lo uso per aggiungerlo alla lista dei risultati finito questo chiudo la connessione e ritorno alla lista se invece non va bene ritorno nulla niente di nuovo tutta la nostra fase creativa si era esaurita quando abbiamo scritto questa qui il resto è solamente passaggi standard allora a questo punto abbiamo questo metodo get connessioni e velocità che possiamo usare nel modello dove possiamo avere facciamolo esplicitamente connessioni e velocità archi pesati lo chiamo così uguale dao punto get tutte le connessioni e velocità a questo punto per ognuno di questi cp posso creare due punti archi pesati cosa che non gli piace for grazie for non è uguale però ciascuno di questi archi pesati posso aggiungere l'arco quindi potrei fare due cose o dire l'arco c'è già perché l'ho aggiunto prima e quindi semplicemente aggiungo un peso a un arco che esiste come potrei fare con graph punto grafo si chiama punto add edge non c'è grafo add set scusate set edge weight c'è un metodo set edge weight che assegna un peso a un arco tra la sorgente e l'assignazione e questo arco deve già esistere perché se per caso l'arco non c'è ritorna null oppure un'eccezione quindi l'arco lo posso specificare in due modi con l'oggetto edge oppure dando la coppia di vertici la coppia di vertici chi me la dà non ce l'ho perché questa connessione velocità mi da solo l'id ma io qua ho la mappa che mi permette in uno snap di passare dall'id all'oggetto quindi potrò avere l'oggetto fermata di partenza altro non è che l'id fermata idmap punto get di cp punto get stazione di partenza quindi cp che mi arriva dal database è la singola riga della query che ha un numerino stazione di partenza da lì ricao l'oggetto fermata perché ovviamente le fermate le ho già prese prima e ho costruito l'idmap l'identity map e quindi sia la fermata di arrivo che la fermata di arrivo di partenza che la fermata di arrivo li prendo dalla mappa fermate idmap punto get stazione get stazione di arrivo quindi posso fare un set edge weight passandogli da partenza l'arrivo e il peso il peso non è la velocità l'oggetto cp ho la velocità il peso per me è il tempo di percorrenza quindi il tempo è spazio fratto velocità giusto? quindi lo spazio me lo devo calcolare la distanza tra due le fermate le ho le fermate hanno le coordinate quindi posso calcolare la distanza tra le due fermate usando la classe simple lat long che abbiamo già usato lat long punto come si chiama quel metodo la get distance andiamo a prendere le librerie simple lat long lat long lat long i pass ecco qua lat long tool punto distance allora per calcolare la distanza lat long tool punto distance tra partenza punto dammi le coordinate arrivo punto dammi le coordinate e l'unità di misura è un oggetto di tipo length unit che può essere una di queste costanti chilometri metri miglia eccetera eccetera nodi noi abbiamo la velocità espressa in chilometri all'ora quindi ha senso esprimere la distanza anche in chilometri quindi è length unit punto chilometre dove siamo qua length unit punto chilometre e questo mi dà la distanza in chilometri quindi il peso sarà uguale alla distanza fratto velocità cioè il tempo distanza fratto la velocità che la prendo dall'oggetto cp gas velocità questo mi dà il tempo in ore perché sono chilometri all'ora diviso chilometri ok in ore magari una cosa un po' scomoda la potremmo esprimere in secondi quindi possiamo moltiplicare per 3600 tempo tempo in secondi non importa è l'unità di misura che scegliete tanto alla fine l'importante è che gli archi abbiano tutti la stessa unità di misura ok così costruiamo il grafo con gli archi pesati l'alternativa poteva essere ignorare questa parte buttare via questa parte perché di fatto gli archi li sto considerando due volte una per raggiungerli senza peso e l'altra per specificare il peso di questi archi quindi fare solamente questo ciclo dove a questo punto potrei semplicemente fare questo metodo eccolo qua add edge with vertices che riceve che è un metodo di utilità della classe graphs e quindi dice voglio un grafo il vertice di parcellenza il vertice d'arrivo e il peso aggiunge i vertici specificati dal grafo se non ci sono già e crea un nuovo arco pesato e assegna anche il peso quindi già qua facevo tutto in un colpo solo quindi bastava spassare il grafo partenza arrivo peso ovviamente tutti questi calcolini me li devo fare ma evitavo il doppio la doppia iterazione ok di fatto mi risparmiavo qualche query al DAO precedente ma vabbè adesso una volta che ho questo come uso il calcolo dei cammini minimi allora posso supponiamo di voler diciamo così popolare un'interfaccia di questo genere quindi andiamo a prendere il main in cui l'utente sceglie una fermata di partenza una fermata di arrivo questa sarà già nella soluzione precedente e cliccando su cerca gli fa vedere il percorso nella soluzione precedente cliccando su cerca gli fa vedere il percorso col numero minimo di archi adesso gli possiamo far vedere il percorso col minimo tempo allora per far questo qui si arrabbia perché abbiamo cambiato il grafo sottostante quindi dobbiamo poi togliere dei pezzi che non servono più cominciamo ad aggiungere quello che ci serve invece c'è il calcolo del percorso minimo percorso minimo usando ad esempio l'algoritmo di Dijkstra allora andiamo a dare un'occhiata a come è implementato l'algoritmo di Dijkstra all'interno di jgraph-t documenti javadoc il package short space clicco di qua e quindi tra questi tra tutte queste classi c'è la classe Dijkstra short space come costruttore quindi ha dei campi costruttore un costruttore cui passo posso passare o il grafo e basta oppure il grafo è un raggio massimo il raggio mi serve per limitare la ricerca mi dice guarda non cercarmi soluzioni che abbiano comunque lunghezza maggiore di questa quindi se per caso trovi dei vertici la cui distanza è maggiore di questo raggio ti fermi comunque e poi come metodi pubblici ha un get path ritorna il cammino più breve da una sorgente a una determinata destinazione quindi poiché Dijkstra data una sorgente calcola tutte le destinazioni ogni volta che chiamo questo metodo lui ovviamente si ricostruirà rigirerà l'algoritmo della sorgente nuova e mi dà esattamente il cammino oppure anche solo il peso di questo cammino se mi interessa oppure esiste un metodo di comodità essenzialmente che è un metodo statico che permette di chiamare l'algoritmo senza creare la classe quindi di fatto potresti scrivere direttamente da istasortresspat punto find path between gli passi il grafo sull'agente e destinazione e ti dà lo sull'oggetto graphpat quindi di fatto internamente si costruisce un oggetto di extra e lo usa ma non ci fa molta differenza a noi magari fa comodo avere l'oggetto perché magari prima gli chiediamo il percorso e poi gli chiediamo la distanza questo oggetto questo oggetto che ritorna restituisce un oggetto graphpath che a sua volta contiene dei metodi per essere interrogato quindi l'oggetto che ritorna non è semplicemente una lista di vertici ma è un oggetto che ovviamente contiene la lista di archi il vertice di partenza la lista di vertici quindi se il grafo è semplice avere la lista di archi o la lista di vertici è indifferente se fosse un multigrafo è importante la lista di archi perché conoscere i vertici non è sufficiente però ne può servire la lista di archi già ordinata nel modo giusto e la lunghezza massima scusate la lunghezza è il numero di archi e il peso massimo è il get weight quindi da questo oggetto graphpath abbiamo praticamente tutto ciò che ci serve la lista di vertici e il peso totale quindi è già praticamente tutto tutto fatto nel senso che noi possiamo dal nostro modello aggiungere quindi dove lo aggiungiamo in fondo un metodo trova a minimo che mi può restituire direttamente la lista di fermate a partire da una fermata di partenza e una fermata di arrivo questo non farà altro che istanziare un nuovo daistra ijk short spot v è fermata e è default weighted edge uguale new questa cosa qua quindi passo il grafo questo metodo è stato per se chiamato dal controller quindi il controller non conosce il grafo però il controller dalle tendine può conoscere ovviamente può passarmi la fermata di partenza e la fermata di arrivo e gli faccio semplicemente ritornare il cammino quindi l'oggetto che mi istituisce daistra si chiamava graph path ce lo ricordiamo quindi graph path fermata di fermata e default weighted edge il cammino me lo faccio dare da daistra a cui gli dico dammi il cammino tra la partenza e l'arrivo e quindi il mio controller potrò restituire direttamente return path punto vertical list e allora se torniamo al controller a questo punto che già chiamava alla pressione del bottone cerca questo metodo fermati raggiungibili eccetera lo modifichiamo e diciamo semplicemente che ops dove sono finito qua model punto trova cammino minimo tra la partenza e l'arrivo sotto forma di lista di fermate e qui e qui riuso già il codice che avevo per stampare questo elenco di fermate non volendo non ho voluto toccare troppo il controller quindi di fatto non ho l'informazione sul peso cioè sulla distanza massima che sto percorrendo il tempo necessario se volessi dovrei portare su anche questa informazione chiedere al modello anche da dammi qual è il tempo ma per provarlo come prima volta possiamo accontentarci dobbiamo però prima di eseguire il programma lavorare un po' sul model perché adesso è un po' misto perché c'è ancora da qualche parte default edge anziché weighted edge e così via allora facciamo un'operazione molto semplice dove c'è default edge mettiamo weighted ovviamente gli algoritmi che funzionavano sul grafo non pesato continuano a funzionare sul grafo pesato bisogna solo mettere a posto i tipi perché tanto ragionavano solamente sugli archi senza andare a vedere sulla connettività degli archi senza andare a vedere dentro quindi così c'è altro qua sotto qua e ancora uno qua così in teoria ciò che funzionava con l'iteratore continua a funzionare semplicemente adesso non lo stiamo più richiamando vediamo se il man ci riserva qualche sorpresa quindi io posso prendere due fermate qualunque e mi calcola questo percorso di 20 fermate adesso sarebbe interessante fare il confronto con la versione precedente per vedere se il percorso che mi calcola è lo stesso oppure no e quale sarebbe stata la durata del percorso calcolato con un minimo numero di archi rispetto a quanto si guadagna a calcolare effettivamente la minima durata per questo con un pochino più di calma si può fare allora questi due signori cioè l'algoritmo di Dijkstra che è quello più semplice da usare essenzialmente e abbiamo visto che è istantaneo rapido da questo punto di vista è utile quando devo calcolare una volta una distanza tra due vertici perché lui l'algoritmo gira solamente quando chiamo questo metodo getPath e però ogni volta che gli passa sui vertici lui rigira da capo quindi dovessi fare delle richieste ripetute non è il modo più efficiente piuttosto se dovessi fare richieste ripetute potrei utilizzare l'algoritmo di Floyd che calcola in un tempo o di n cubo ma lo fa una volta sola tutti i cammini quindi se so che nel mio programma ho bisogno di conoscere tanti cammini minimi diversi qui l'abbiamo fatto una richiesta sola l'utente clicca e il programma risponde ma se l'algoritmo dovesse chiederlo più volte conviene usare invece l'algoritmo di Floyd ad esempio o comunque un algoritmo che calcoli gli all pairs tutti i cammini minimi e qua si vede che mi posso far restituire dov'è ad esempio in un colpo solo tutti i cammini minimi da una singola sorgente ma viene calcolato una volta sola diciamo così il grafo di tutti i cammini minimi quindi se viene ripetuto più volte lo posso di fatto questo get path non è più un metodo che fa il calcolo ma restituisce un valore già calcolato adesso qui purtroppo la documentazione non fa apprezzare la differenza sul fatto che nel caso di Floyd-Warshall l'algoritmo viene fatto girare nel costruttore quando costruisco l'algoritmo tanto ha già tutto mentre invece Dijkstra l'algoritmo gira solamente quando gli passa la sorgente e la sinazione perché senza sapere la sorgente non avrebbe nulla da fare in termini di ottimizzazione i risultati vengono memorizzati così tutte le chiamate successive allo stesso metodo sono efficienti dal punto di vista computazionale se devo fare più chiamate ho un costo maggiore alla prima chiamata ma poi le altre vanno via lisce nel caso di Dijkstra invece ogni volta di fatto l'algoritmo gira da capo ok questo per quanto riguarda i cammini minimi sui grafici rimane ancora un ultimo argomento che è quello sui cicli la differenza tra un cammino e un ciclo è che un ciclo per come definiamo deve toccare è un cammino chiuso però ci sono dei cicli particolari che sono i cicli che toccano tutti i vertici del grafo che toccano tutte le città da cui si innestano problemi tipo il problema del commesso viaggiatore cioè devo fare queste consegne quello è il percorso ottimo che tocchi tutte queste città e che mi permette di spendere meno tempo o meno benzina questo è l'argomento che ci rimane e lo lo lasciamo diciamo in sospeso per la settimana prossima perché dopo l'intervallo invece vorrei iniziare l'altro l'ultimo macro argomento del corso così rimandiamo un po' in parallelo che è quello delle simulazioni ed eventi quindi ci facciamo un po' di intervallo e poi riprendiamo quell'argomento nuovo grazie a tutti